La tradizione orientale descrive non la spogliazione di Gesù, ma Gesù che volontariamente depone le vesti prima di salire in croce per noi. È quanto dipinto qui in Basilica nella prima scena della passione di Gesù. Come succede quando ci si mette in viaggio o fisicamente in cammino, l'itinerario della Quaresima ci invita ad andare all'essenziale, a scegliere le cose, gli aspetti che sono indispensabili per la nostra vita. Siamo chiamati a spogliarci delle cose superflue per seguire Gesù Cristo. Gesù si è spogliato per noi, si è spogliato per venirci incontro e nell'affresco che sta di fronte al fatto che Gesù depone le vesti e che vedete alle mie spalle, c'è la spogliazione di San Francesco. Francesco si è spogliato non solo delle vesti, ma potremmo dire che si è spogliato di ciò che rendeva pesante la sua vita, soprattutto la vanagloria mondana e tutto questo per mettere Gesù al primo posto. E allora possiamo chiederci come spogliarci degli abiti sporchi, li potremmo definire, come la rabbia, l'odio, i sensi di colpa, i rimorsi, come spogliarci dell'egoismo, dell'orgoglio per rivestirci di umiltà, di benevolenza, di misericordia, di carità. Cos'è davvero essenziale nella nostra vita? Cos'è davvero essenziale nella mia vita?